Are you ready to party? Stop! Get down on the floor! Everybody party like Boom 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 Morocco party like Boom 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 Down in Brazil they like Boom 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 Miami do it like Boom Haiti like Boom all over the world they like Boom 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 Salve ragazzi siamo i due porciolini E siamo qui per voi Cioè per le femminute perché? Vabbè dai continuiamo Comunque a parte Sì dai ragazzi Ma a noi non ce ne ho fatto un cazzo nemmeno di questo Perché noi siamo qui oggi sempre con sta mattonella Per La prima volta abbiamo fatto degli giochi Oggi vi vogliamo consigliare qualche applicazione Caruccio Cari utile Carina che lo puoi portare in giro Vado? Grazie gioca Allora Vediamo le applicazioni Eccole qui ragazzi Abbiamo questa applicazione movie player Questa applicazione è ottima per scaricare i film AVI Punto mp4 ACC Perché siccome L'applicazione di base dell'iPhone Perché adesso stiamo facendo per l'iPhone In questo momento L'applicazione di base per l'iPhone Non legge gli AVI Questi sono film comprati Ci possiamo farli vedere tranquillamente Perché YouTube non ci può dire niente Allora Questi sono film comprati proprio In questo caso questi film vengono letti in un altro tipo di formato Che non li può leggere In punto AVI O punto mp4 Perciò se noi carichiamo dei film AVI Sopra video non li vedremo mai Però Siccome qui diciamo Sembrano invisibili Qua sopra possiamo vederli Ci li fa vedere Senza nessun problema La stessa cosa Sopra questa applicazione Togliamo La stessa cosa sopra questa applicazione qui Che è VCLSR Che siccome VCL è stato tolto Magari è una malattia Sì è estriano Abbiamo fatto uno ottimo Una volta poi è stato tolto Ah ok Uno invece che noi consigliamo Proprio a pressione da prendere È Amerigo Vespucci? Più o meno sì Facciamo vedere il nome Eccolo qua Amerigo Tra l'altro è free È gratis Sì sì È free Perché il motivo qual è? Che tu puoi collegarti a Browseware Tranquilmente YouTube Adesso facciamo vedere Ah praticamente è una sorta di mp3 YouTube Lo ha Esatto esatto Andiamo sopra l'altro canale Vediamo Eccolo Bravo Bad Boys Adesso vi facciamo vedere ragazzi Che cosa succede? Se noi Vediamo Questo qui Ci dice Link video trovato Clicchiamo la freccetta in basso In automatico ci chiede Vuoi fare il download di questo video? Sì Clicchiamo da upload E il video da qui Lo sta Download Adesso che l'ha fatto Vediamo un po' di trovarlo FIFA Eccolo Mostra in file Va in automatico E adesso Noi non siamo collegati All'internet Cioè Ma ci abbiamo il video? Ci abbiamo il video Poi sognatelo quando vogliamo Senza nessuno Notare il gollo comunque l'ho fatto Ah è bravissimo Gioco è stato bravissimo E questo qui È il video Questa è un'altra cosa che può E tra l'altro non si spegne quando lo No esatto esatto Quindi Cioè da una parte è comodo Magari per scaricare il video da musica Sì Tu scarichi il video musicale Possiamo far vedere a volo Sare come ricoprendo Qui si facendo solo le immagini Qui sono tutti i video musicali Che se noi spegniamo il telefono Ho tattiato il video musicale Si sente ugualmente senza Mettene uno L'importante è che non L'importante è che non Che non diamo Non scarichiamo Cioè L'importante è che non Interrompiamo Scusate ragazzi Mi ha ampliciato il gioco Mi sta dicendo di più Ma ha detto il gioco Vabbè Non dobbiamo chiudere l'applicazione ragazzi Se noi che ecco La applicazione deve rimanere in questo modo Aperta Cioè comunque Se la chiudiamo Come lettore musicale In poco a vero Sì Noi lettore musicale Se noi usiamo L'itunes store Se non vogliamo Se non vogliamo Né scaricare la musica A pagamento Non vogliamo Collegarlo al piccio Quindi Cioè Tutto sommato È un'app molto utile Si possiamo vedere Ci possono vedere Video senza problemi Come per i documentari Non voglio scaricare Documentari o tutto Che cazzo che si scarica i documentari Fatevi di porno Su Youtube non ci sono Ma per il dettaglio Da qui possiamo scaricare Qualsiasi cosa E quale Li metteremo noi Viene cambiato Il video Siamo sempre Sopra il nostro canale A far vedere I ragazzi Ecco qui Possiamo far notare Qui Possiamo cambiare il canale Perciò nel senso Mettiamo A me si che ne so Vuoi scaricare una canzone Puoi scaricare un po' No veramente Lo puoi mettere tranquillamente Scaricarlo E puoi averlo Però bene Eh so dettagli Ma ragazzi Siccome giocare Voleva Voleva precisare Queste cose Ma perché io Noi volevamo Far vedere Ok Un momento che Siamo parlato Ecco fatevi l'iPhone No No Sbagliavo E' tutti così Ti dicono La sorta pure Io squilla Va a rispondere E continua A squilla Suoneria E queste sono tutte le musiche scaricate Vedi che il giangazzo Davo tutto il giorno Io eh Va in palestra Va bene ragazzi E queste sono delle piccole applicazioni Che noi vi consigliamo Per questa volta Vediamo Sì Se vi è piaciuto Comunque carine Utili Sì Questo per vedere Ricordiamo Sarebbe vedere Video In formato differente Da quello che propone L'Apple Perciò appunto Ave Ave.mp4 ACC Tutti i formali Esatto L'altra per Ricordiamo Amerigo Per scaricare Video Musicale Oppure sì Anche musica Sì Tutto quello che volete E potete vedere Tranquilmente i streaming Togliendo il wifi Senza nessun problema Facciamogli vedere Una prova Adesso abbiamo tolto Anzi togliamo A bel 3G Tanto Non ce lo conta Quel che non prende Buono Allora Adesso vediamo Vi facciamo vedere FIFA Vedi FIFA L'ultimo Eccolo Facciamogli vedere Ma sì Praticamente Una volta che tu scarichi È come se tu ci avresti La canzone Sì Sì Perché lo salva in automatico Nella memoria del telefono Perciò Un po' che prova È consumata Nella memoria del telefono Perciò Se avete un 16 giga Byte dell'iPhone State attenti a scaricare Troppa musica O troppi video Che sono Bazzia pesanti E qui In automatico Come avete visto Partono Gli altri video Perciò Perciò Se volete sentire una musica Non serve che Cliccate uno E dopo Dovete ricliccare L'altro No In automatico Parte l'altra musica A rotella Come è stata messa in ordine Perciò Arriva da qui Scende giù Scende giù Scende giù Se la fa tutta quanta Se avete 15 canzoni Cioè Come è stata una playlist Esatto Identica alla playlist Ok Allora Da qui si può Elimitare tranquillamente Il file Ecco fatto E questa qui È l'applicazione Da upload Upload File Che potete creare Le diverse cartelle Che volete Da io L'ho lasciato upload Potete mettere MP3 Video musicali Documentari Film Potete pure scaricare I film che vi permettono Di scaricare sopra YouTube Prima che mari vengono tolti E qui in piccolo Potete vedere Il video L'ultimo Che sta riproducendo Buono Cioè voi Mentre mari state navigando Questo qua Continua a riprodurre il video Tranquillo È bravo Amerigo È bravo Amerigo Hai fatto una cosa buona L'interno su un becino La differenza Tra quello Tra le Quello free E Quella pagamento Cambia solo una cosa Che Quello free Potete al massimo Mettere due File in download Mentre con la pagamento Potete mettere tutti i file In download Che volete Perciò parte uno Partono gli altri Eccetera eccetera Vabbè Se volete spendere soldi Per scaricare 5 film Un euro Qualcosa O 90 centito Che Vole che Insomma Se volete scaricare 200 film al minuto Ve la pagate Se no Se ne passano due Al minuto Insomma Troppo In 5 minuti Andate con quella gratis Esatto Esatto Tanto non cambia Completamente nulla Ehm Vabbè ragazzi Anche per oggi è tutto Per oggi è tutto Per questa piccola rubrichetta E Torneremo la prossima Con altre Con altre applicazioni Con altri giochi E quando lui dice Si manetta sempre Cerchiamo di trovare male Delle applicazioni più divertenti E i giochi che vi possono piacere E cerchiamo di accontentare un po' Il video vi è piaciuto Mettete un mi piace Bello mi piace E ritorna qualche volta Maledetto Comunque Anche per oggi è tutto Da Da RICE E da Joker E dai bad boys In generale Esatto Perché l'altro Non ci sta C'è da fa Ehm Maledetto Ehm Vabbè Ti vediamo alla prossima Alla prossima ragazzi Ciao violated Stop Get down on the floor Everybody party like Boomест Boom 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 Molacco party like Boom 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 Down in Brasil they like Boom 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 Miami do it like Boom Haiti like Boom All over the world they like Boom 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 Everybody like Boom, 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 boom.